Benvenuti al grande vertice dei poni di Equestria! Gentili delegati, avete viaggiato a lungo per rappresentare le vostre città in occasione di questo evento volto alla celebrazione di tutti i luoghi unici che costituiscono il regno di Equestria. Stasera, alla cena di benvenuto, Princess Cadence inaugurerà questa splendida statua dell'amicizia fatta con gemme provenienti da ciascuna delle vostre città. Ora vorrei lasciare la parola all'organizzatrice di questa conferenza, Princess Twilight Sparkle! Grazie a tutti per l'accoglienza, con delegati arrivati da tutto il regno e che parteciperanno a tre giorni di incontri, conferenze e ricevimenti. Questo sarà il più grande vertice dei poni che sia mai stato organizzato e lasciatemi dire che pianificare tutto in tempo ha portato a molte notti insonni. Siamo particolarmente lieti di ospitarvi e curiosi di scoprire tutte le meravigliose tradizioni del nostro regno. E ora il mio fedele assistente Spike vorrebbe dirvi due parole. Un saluto a tutti quanti, sono qui per provvedere a ogni vostra esigenza, quindi se c'è qualcosa che posso fare per questo... Io adoro Princess Twilight! Io adoro tutte le principesse! Certo, tutti quanti adorano le principesse. Spike! Spike! Aiuto, sono qui! Spike, abbiamo bisogno di te. Eccomi qui, che posso fare per voi? Wow, ma cosa ti è successo? Oh, mi dispiace Spike. Spike, ho solo... Bisogno di fare un breve sonnellino dei delegati che io sono andata a... Ha trascorso tre giorni e tre notti a organizzare il vertice e dobbiamo assicurarci che oggi si riposi un po'. Non ce la farà partecipare al ricevimento di benvenuto in quello stato. Perciò conto su di te. Devi fare in modo che nessuno venga a disturbarla. Vi prometto che non vi deluderò! Non finché sono di guardia io. Ti domando scusa, puoi abbassare un po' il cinghettio? Oh no! Ti darò del mancino e te darmi qualsiasi cosa, ma ti prego smettila, sveglierei la principessa! Incredibile, ha funzionato! Tira! Salve gente! Scusate se ho interrotto il gioco, ma c'è una specie di importantissimo vertice diplomatico in corso e quindi è necessario che la principessa riposi e... Beh, potresti andare a giocare altrove. Scusate se ho interrotto il gioco, ma c'è una specie di importanti, ma c'è una specie di importanti, ma c'è una specie di importanti, ma c'è una specie di importanti.